Beh, quello che posso dire è appunto che è un lavoro che sicuramente a Paolo è nato per la pandemia, la pandemia in qualche modo. Allora, un altro qua, un nostro percorso, se noi parlerete sottofondo, scusami, stavo dicendo che era la stessa. Sì, insomma, quindi si è risentito un po' di quel terrore, di quelle operazioni proprio fisiche, fisiche, no? Per lui che ha fatto qualcosa per le stelle, per il gruppo. E quindi la società è avventata un po' avventata da tutto questo, insomma. E quindi i personaggi che si incrociano hanno queste storie un po' che vanno verso un'acide in qualche modo. E la musica, volevamo che fosse stato di niente, come dire, un portante, all'inizio, diciamo, un nuovo organismo, proprio in modo. Per questo poi Paolo è molto presente, molto consapevole, molto senza essere pelato della musica. Quindi è molto attento e non prevalga la mente e ha molta fiducia, ovviamente, ci siamo trovati sui discorsi, appunto. Anche, fortunatamente per me, appunto, è anche questa fortuna di poter riflettere molto qualche cosa proprio di interiore, che è in un modo proprio di interpretare il film, per cercare di trovare i pezzi della realtà, insomma. Un'altra cosa che vorrei chiederti, che parmi ferita, io appena. La produzione dei casi di produzione mettono a disposizione della musica abbastanza risorsa per un film. Oppure pensavo sempre che qualcosa... non parla del lavoro musicista, eh? No, devo dire, sinceramente, io penso che come costume, in Italia non c'è mai stata la voce musica in un impagno. Se c'è la musica, è sempre stata staccata da quello che ci sono come scrittori musicali, che vengono interpellati dal musicista, pure dalla stessa produzione. Però la voce musica non è come i costumi che fanno parte dei film, delle cinematografie, o qualsiasi altra cosa. È proprio stata sempre una voce staccata. Ci sono, attualmente, da qualche tempo, produzioni che insieme hanno portato poi un caso di produzione, ad esempio, della Fontana, per esempio, che c'era sulla casa di edizione musicale. E quindi, sa benissimo che cosa si chiama, per esempio, parlo femmininale. Ci sarà una discussione, ma non sarà così penalizzante come può essere, soprattutto, che un musicista giovane, che comincia oggi, si trova realizzato per fare dei combattimenti. Quindi, non è consolante proprio la situazione da questo punto di vista economico. che sento un po' il giocamento che fa. Sì, ma questo è una visione veramente assurdo alla nostra domanda, perché, come sappiamo bene, nella nostra vita di spettatori, di come le musiche, le immagini siano. Cioè, un'immagine non è quasi semplice. C'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato, c'è stato. Sì, sì. Sì, sì. E si conta, si è contato sempre, però, appunto, è un tempo, insomma. Poi, se c'era qualche cosa da capire, l'intervento del regista che interceduta, no? Nacendo, beh, insomma, però, il mio figlio, no? Ecco, quello ci ha stato fatto sempre un po' di, tutti quanti, certe cose. E, però, veramente, io, come lo dico, ho contato, l'ho insegnato abbastanza, anche fino a tantissimo tempo fa, con tecniche di comprensione del genere. I ragazzi, di avere pazienza, io, veramente, non so cosa possono fare, perché non c'è quello che si deve fare, quando trovi un muro di fronte a questa cosa. Questa cosa qui ha penalizzato molto, almeno, anche la qualità, in qualche modo, perché poi, se non si possa avere quello che serve, bisogna sempre accontentarsi a qualche modo. Non so quanto possa avere credito su questo. Allora, pensavo che un'altra cosa, una cosa che avevi detto, lo spettacolo di tutti, come l'anziano della loro volta, è quello del suo fiuso, che non frequenta le canzure, cioè, come dire, poca cosa, no? Una volta è per favore di cantare, insomma, come si sente, come esiste. Ma, infatti, ricordo, un battiato, un intervista che l'ha fatto andare, è un'altra cosa che vuoi fare, quindi il mio frate è un modo di colpettare.